Kupe è una figura leggendaria nella mitologia Maori, il popolo indigeno della Nuova Zelanda. È riconosciuto come uno dei grandi esploratori polinesiani e viene spesso descritto come il primo a scoprire le isole della Nuova Zelanda. Secondo le tradizioni, Kupe era originario di Avaiki, che i Maori ritengono essere la loro patria ancestrale. La storia di Kupe racconta di come lui avesse intrapreso un viaggio attraverso l'oceano a bordo della sua canoa, chiamata Mataorua, per inseguire un grande pesce che aveva rubato pesci dalla sua rete. Durante questo inseguimento, Kupe avrebbe scoperto l'attuale Nuova Zelanda. Dopo aver esplorato diverse parti delle isole e aver avuto diverse avventure, Kupe tornò a Avaiki e raccontò ai suoi compatriotti della sua scoperta, spianando la strada per le successive migrazioni Maori verso queste nuove terre. Per i Maori, le storie su Kupe non solo servono a registrare la storia della migrazione Maori, ma anche a trasmettere lezioni e valori culturali.